Benvenuti nel mondo degli orologi Sarkar. Sarkar è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha una lunga e prestigiosa storia che risale al 1948. Fondata da Carlo Sarzano, l'azienda è stata in grado di trasmettere la sua passione per l'orologeria di qualità attraverso le generazioni fino ad oggi. Gli orologi Sarkar sono noti per il loro design elegante e raffinato, realizzati con materiali di alta qualità e dotati di funzioni avanzate. La collezione di orologi Sarkar è caratterizzata dalla cura dei dettagli e dalla precisione svizzera. La collezione di orologi da polso Sarkar comprende modelli per uomo e donna, con un'ampia scelta di stili e design. Gli orologi da polso Sarkar sono realizzati con materiali come l'oro, l'acciaio inossidabile, il titanio e la pelle esotica. La collezione di orologi da polso comprende modelli classici, sportivi ed eleganti, dotati di funzioni avanzate come il cronografo, la data e la fase lunare. La scelta dei materiali è uno dei punti di forza di Sarkar. Questi materiali sono scelti per la loro resistenza, durata e bellezza. La cura dei dettagli nella selezione dei materiali è ciò che rende gli orologi Sarkar così speciali. L'azienda è impegnata nella produzione di orologi sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Sarkar utilizza materiali riciclabili e riduce l'impatto ambientale della produzione dei suoi orologi. Per chi cerca un orologio di lusso, Sarkar è una scelta ideale.